Eccoci buonasera, avete sentito quante notizie importanti ci sono da riferire oggi, ma abbiamo scelto di aprire ancora una volta con quella che peraltro è anche l'ultima in ordine di arrivo sulle scrivanie delle redazioni e anche rispetto all'opinione pubblica, cioè la notizia dell'arresto di quella Andrea Bonafede che fin qui abbiamo conosciuto da qualche giorno, da sei giorni a questa parte come l'uomo che spontaneamente o no ha dato il nome falso a Matteo Messina Denaro durante almeno l'ultima fase della sua latitanza, ma se è stato arrestato c'è dell'altro. L'ordine di custodia cautelare è arrivato esattamente una settimana dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, stasera Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato l'identità al boss durante la sua latitanza è stato arrestato. Il geometra già indagato va in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. A lui è intestato il primo covo del boss ritrovato e lui stesso ha ammesso di averlo comprato con i soldi di Messina Denaro che conosce da quando erano bambini. Il padre di Messina Denaro era molto legato allo zio di Bonafede, boss di Campobello, sua anche la tessera sanitaria che ha permesso all'ex ricercato numero uno di curarsi, mentre all'anziana madre di Bonafede è intestata la Giulietta Nera del boss. Ora, a partire da quell'auto ritrovata sabato scorso in un garage, si cerca di risalire al denaro, al tesoro nascosto, forse il compito più difficile, perché quella macchina nera è stata acquistata personalmente dal boss, non in contanti ma in modo tracciato, come ha confermato il concessionario di Palermo ascoltato dagli inquirenti. In queste ore poi i cacciatori di Sicilia dei Carabinieri stanno scandagliando con un georadar la zona dove sono stati trovati i tre covi perché sono sicuri che qualcosa possa ancora spuntare fuori. Le ricerche si concentrano intorno alla casa del figlio di Giovanni Lupino, l'autista di Messina Denaro, quello che lo ha accompagnato nella clinica di Palermo dove è stato catturato. Anche il figlio di Giovanni Antonio è stato ascoltato. Nel primo covo, tapezzato di oggetti e poster del film Il Padrino, sono stati trovati anche degli abiti femminili e segni che testimonierebbero la presenza non occasionale di una donna che potrebbe aver lasciato nell'appartamento anche tracce biologiche. Rintracciarla sarebbe molto importante per le indagini che dimostrano ogni giorno di più come la latitanza di Messina Denaro sia stata tutt'altro che riservata, almeno nell'ultimo periodo. Intrecciando vecchie inchieste e deposizioni si sta facendo strada all'ipotesi che lui, nella zona di Campobello di Mazzara, forse si era stabilito già da anni. Un informatore dei Carabinieri ritenuto attendibile nel 2021 ha dichiarato che il boss si trovava proprio in una frazione di Campobello dove, disse, tutti lo proteggono e lo elogiano. Parole che oggi appaiono sempre più credibili.